Assessore Cuzzi, una buona notizia per tutti i residenti del quartiere di Fontanelle. Tra qualche settimana verrà istituito un nuovo mercato rionale proprio in via caduti per servizio. Sì, un altro passo importante sia dal punto di vista commerciale, istituzione del mercato rionale in via caduti per servizio, ma anche per servire una zona che troppo spesso è stata definita a causa dei mancati interventi della politica come zona periferica. Noi vogliamo una città policentrica dove le periferie siano ricche di servizi e per questo abbiamo immediatamente riattivato il mercato e istituito il mercato di Fontanelle appunto perché crediamo che anche attraverso la rigenerazione dei servizi le periferie possono divenire belle e piene di vita e soprattutto i nuovi centri di sviluppo della nostra città. La vostra è una decisione che ha accolto ovviamente il favore di tutti i residenti, tutti gli abitanti di Fontanelle? Sicuramente è una richiesta che parte dai residenti, dalle associazioni che operano in quella zona anche perché quella zona è poco servita dal punto di vista commerciale, ma anche dalla volontà di questa amministrazione di tener conto di quelle che sono le parti fragili della città che noi vogliamo ricucire, rammendare, anche secondo il concetto in voga nel Governo nazionale portato avanti da Renzo Piano per cui le periferie diventano il nuovo centro di sviluppo delle città e anche con l'attenzione all'aumento della qualità della vita che un'amministrazione deve avere.